Dovete crederci, è successo, è la fine del mondo, abbiamo il vincitore qui, il vincitore del festival di Sanremo, allora qui, Gigi Sabani, un po', dai, su! Come mi trovi, come mi trovi? Oddio, ti ha aspettato un po' più biondo, non lo so! Ma io che è il vincitore di Sanremo? Eh beh, fatti più, ci vuole niente a farsi biondo, eh! Io non ho vinto Sanremo, ma dai, ha vinto la canzone! Fai l'imitatore dello scontento adesso, tu hai vinto Sanremo e devi darti, fai la faccia! La faccia del vincitore? Perché ti assicuro che ce ne sono lette tante, no? Perché la gente crede poi a quello che dice, invece io da fonti attendibilissime, fonti informate, so che Gigi Sabani ha vinto, insomma, anche il numero 39esimo festival di Sanremo. A te hanno detto che sei arrivato il 39esimo, no? È il 39esimo festival e tu sei primo! Aorita, ti ringrazio, ma non esageriamo, è andata bene! Io vorrei adesso una cosa, se si può ascoltare, Lo sentiamo? Sembra una cosa, perché non si chiede mai questa cosa, possiamo ascoltarla, perché tu vai a cantare, no? Col permesso tuo! Faccio quella originale, Sanremo, eh! Facciamo quella di Sanremo, che è sempre la fine del mondo, però proprio tutta fatta da Gigi Sabani, vincitore del festival! Complimenti! Come si... non so, posso mettermi in ginocchio? Un secondo solo di Gigi Sinocchio! Baccia le mani, Gigi! La fine del mondo, Gigi Sabani! Spero che non sia anche la mia figlia, grazie! Spero che non sia anche la mia figlia, grazie! Mi è sembrato di capire, che domani arriverà Gesù! Con suo aereo personale, vuol vederci tutti alle otto! Viene giù per fare conto, e qualcuno se la fa già sotto! Dagli alvegliore, sta scappando tutti per le scale! C'è chi domanda ad amici e parenti, sempre caro e normale! C'è chi prenota un pre, un monsignore o meglio un cardinale! Vogliono tutti quella raccomandazione giusta e un po' speciale! E dall'America arriva il grande giornalista, vuol vedere Gesù per fargli un'intervista! La copertina in esclusiva mondiale, sarà un avvenimento eccezionale! Abbiamo toccato il fondo, è arrivata la fine del mondo! E adesso dove mi ascolto, è arrivata la fine del mondo! Allora vengo da te, e che? Oppure vieni da te, e? Ma dove andiamo? A Super Classifica Show c'è Gigi Sabani! Che confusione generale, c'è Pasqua e Dalla in prima fila a Celentano! E finalmente le otto, c'è una grande tensione, c'è chi piange e chi rite, siamo in mondo visione! Dal suo aereo privato, è proprio Gesù, io quasi quasi mi do del tu! E l'aspettavo un po' più il mio otto, è arrivata la fine del mondo! E adesso cosa mi racconto, è arrivata la fine del mondo! Me l'aspettavo un po' più il mio otto, è arrivata la fine del mondo! E adesso dove mi ascolto, è arrivata la fine del mondo! Allora vengo da te, e che? Oppure vieni da te! A Super Classifica! A Super Classifica! A Super Classifica! A Super Classifica! A Super Classifica!